Venerdì prossimo a Napoli, presso Palazzo di Omede Cafara, sarà inaugurata la mostra personale di Arturo Ianniello. Arturo, come si è giunti a questa iniziativa e cosa presenterai? La mostra avrà luogo a Palazzo di Omede Carafa, che è la nuova sede della Galleria Un'Opera, che è una costola di largo baracche, che è una realtà napoletana, giovane, ma comunque consolidata, che raccoglie artisti sia giovani che affermati. La mostra è curata da Mariano Ipri, Giuseppe Ruffo e Pietro Datafiore, che sono i tre galleristi, e si intitola Secret Alphabet, Alphabeto Segreto. Presento il lavoro degli ultimi due anni, senza però tralasciare opere meno recenti. Per chi non dovesse conoscerti, quali sono i materiali che più utilizzi? Io utilizzo di solito materiali di recupero, cioè ripesco vecchi pezzi di ferro, vecchi oggetti da siti di archeologia industriale, oppure vecchie fattorie abbandonate, oppure fucine in disuso, quindi cerco di recuperare quello che è un po' una memoria abbandonata, e quindi di riassemblarla e rimetterla su un altro piano, su un piano non artistico in che senso, però su una lettura diversa da quella di cui proviene. Cosa significa essere artisti in generale e cosa significa esserlo nel Vallo di Diano? Allora, essere artisti nel Vallo di Diano è un po' una scommessa. In un certo senso il lavoro è lo stesso di quello che può essere ovunque, il discorso è che comunque siamo in una realtà più piccola, e quindi con, diciamo, parametri diversi. Da primo, dai luoghi deputati all'arte, diciamo, al di là degli spazi convenzionali, come può essere uno spazio comunale o quant'altro, non ci sono luoghi veri e propri, diciamo, deputati a quello, nei quali può essere ospitata una mostra con tutti i grismi. Quindi, su questo punto, diciamo, non c'è una realtà, però, diciamo, comunque si può fare il proprio lavoro. Con la tua giornata, solitamente, come si caratterizza? Allora, la mia giornata dipende o se è ricerca o se, diciamo, studio. Quindi, o passo la giornata nello studio a lavorare col materiale che ho raccolto, altrimenti in giro alla ricerca di nuovi siti, di nuovo materiale. Oltre alla personale che sarà inaugurata venerdì, quali i prossimi progetti? Oltre alla personale di venerdì ci sarà a Benevento, al Museo Arcos, un'altra, una collettiva, sempre curata dai galleristi, di un'opera e una mostra sulla Divina Commedia, nella quale ogni artista affronterà un canto, diciamo, dello scritto di Dante.